Crea dipendenza, ok Ci sono persone purtroppo che non riescono a reggere questa cosa Io sono una persona che lo regge senza problemi E quindi ho un vantaggio incredibile, aspettate devo pensare alla build Io direi che partiamo easy peasy così Crea è stato superato, si Ah si, vabbè comunque il concetto è Ci sono persone purtroppo che ne sono dipendenti e non ci possono fare a meno Perché io ci ho parlato con Jennifer in questi giorni Ash in prima linea Me l'ha rubata, ma perché poi Ash non ha flashato? Questa è una bella domanda Ash mi lì, si si proprio Un po' di soldi Molto bene Voi lo sapete, io lo dico sempre Cioè io non ho problemi Guardi Relia, mi sembra un po' esagerato questo tuo comportamento Capito che sono un semplice zreal però Poi devo stare attento che lei c'ha l'ignite e io no Quindi usiamo tutte le pozze subito che questa mi fa all in Oddio Mi piace l'aggressività di questa Irelia Ok 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 Un po' di soldi Adesso prendo livello 2 What? Ma c'è ragazzi di un pixel l'ho missata Ma che è? Ma c'è Ma scusa Ma adesso Allora Cosa cazzo Ma che cos'è l'Xbox? L'Xbox di Relia Sto impazzendo Cos'è sta hitbox ragazzi? What? La 360 Xbox 360 Cioè Non lo so Avete visto anche voi Non è normale E' la skin di Ez Dice? Non lo so Non so se fidarmi di questa affermazione E' il dislivello Ma raga Avete visto? Due W La prima Uno poteva avere anche Come dire Il dubbio La seconda Ok Facciamoci rispettare Orch'inferocito Tutto arrabbiato Che passa La velocità della luce Tunk Letale Questa Q Letale Ok Back Belle 0 AP Ma è 0 AP o nevergreen? E' uno di quei pick La Bubu Abubu Abubu Vai Warwick che vinci Sei Warwick Smite Sul Gromp Warwick però Ti sta uccidendo Il Gromp Warwick Non si era accorto Di un dettaglio Che il Gromp Lo stava attaccando Da dietro E comunque Stava facendo Un bel po' di male Oltretutto Lui è il magico Mumu Conquistatore Quindi Un po' sbadato Sì Ci hanno fatto Un po' di soldi Con questo ingaggio Double kill Double kill Ah ma secondo me Vediamo Secondo me Chat lui usa la W Secondo me Quell'Urgot Ha fatto double kill Ma perché usa la W Non è un uomo D'onore come noi Mi sa Dopo facciamo un check Per conferma Ma secondo me Usa la W Ok Guardate qua Oh Ho sto minion davanti Non riuscivo A colpirla Ok Oh Sono morto Ha preso il 6 adesso Però anche lei Dai Anche lei Ci sta Ci sta Il trade Fammi vedere Fammi vedere Voglio le prove Ah eccola Sta usando la W Ragazzi Sta usando la W Ne abbiamo la prova Un po' bruttina Sta ulti Spero di prendere il carretto Ma Sì Sono rovinato La W da solo Vabbè Poi non ho colpito Nessuno Però Guardalo Guardalo Con la W Ok Amubu 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 Intanto Prende un po' di danni Oddio Che palle Non sono riuscito a raggiungerla Ho pure messo un punto Sulla Cooper Sbaglio Anziché sulle Vabbè Va bene Va bene Dei signori danni Dei signori danni Indubbiamente Dei signori danni Che poi Zeal pure Fa dei buoni danni Alle torri Tra l'attack speed Che ha di passiva E sta W Non penso proprio Oh cazzo Penso di sì Allora Allora penso proprio Oddio Tirata veramente a scampia Quello Oppala Che danni Vabbè ma Zero l'ap Chi ha scelto il pick Sapeva già Cosa sarebbe arrivato Guardalo come abusa La W Schifoso Oddio Minchia Warwick Ma di quando l'ho fatto Con questa rune Non ho fatti 271 Una kill Praticamente Direi niente male Haha Nice Perfect world WP Ok Guardalo 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 Guarda Guarda Con la W Tic 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 Poi fa pure Fa veramente schifo Sto Warbot Però guarda La W Mamma mia Ragazzi Cioè voi vi rendete Conto Vi rendete conto Ragazzi Che compagni di squadra Mi tocca avere 21 a 4 Ho capito E' uno di quei game Dove tutti vincono E stravincono Ho capito Ho capito E vabbè Comunque ho un parto Ogni volta A farmare con sto champion Questo va detto Una cosa che non cambierà mai Direi che siamo Leggermente avanti Tipo 4 livelli sopra Giusto 4 livelli sopra Siamo ragazzi Come dire Qua parte il surrenda Brevissimo Ah minuto 13 Aspettate Pensavo fossimo già più avanti Invece Siamo solo al 13 Ma mi è partito Il free stack Ma non ho l'assist Saltate in aria Ciao Luca Abbiamo soltanto 7 pick Prenotati Però il concetto Che mi sto rendendo conto Che non c'è mai posto Cioè non ci sarà mai posto Quindi uno si deve Buttare Cioè è come E' come comprare i rolex Praticamente La mia live Per notare i pick E' come comprare i rolex Cioè è la stessa fila Praticamente Minchia questa è al 6 Ragazzi Guardate E' come comprare i rolex Fulmine di pegasus Fulmine di pegasus Ops Eeeh No minion Aia No si è fermato Per cliccare il surrender Alla E non lo hit Non ti com'è di far due con qualcuno Per finire le ferie Oddio potrebbe essere un'idea Potrebbe essere Allora Urgot Non lo possiamo onorare Ragazzi Perché ha usato la W L'abbiamo visto L'abbiamo visto Allora Allora Allora